Siamo qui per questo dialogo che in realtà col professore facciamo da tantissimi anni, ci pensavo venendo qui, dal 2001 su Repubblica, ma in realtà quante volte sono venuto da ragazzo quando facevo il cronista, sono venuto da lei per cercare di capire alcuni fenomeni che riguardavano quella che allora era un tutt'uno, chiamavamo la fabbrica, i fenomeni dell'industria, i fenomeni legati al lavoro, dentro però una concezione che avevamo, il professore ha sempre studiato questi temi, io faccio il giornalista, quindi c'è una sproporzione, nel senso che lui è uno scienziato di queste materie, ha scritto parecchi libri, io me ne occupo perché è la cronaca che ce li mette davanti, è un obbligo che noi abbiamo e naturalmente anche per un interesse molto forte. Però allora noi pensavamo che nei vari momenti di crisi, si ricorda che cosa ha significato per Torino la prima cassa integrazione nel 74, quando è arrivata la cassa integrazione alla Fiat e sembrava che quello che pareva un processo di crescita infinito, che poteva soltanto continuare ad accumulare, ad andare avanti, si fosse per la prima volta interrotto, fu uno shock in qualche modo. E poi gli altri fenomeni che abbiamo avuto davanti, la marcia dei 40.000 quando l'abbiamo vissuta qui in questa città, che cosa ha significato per questa città, e poi il giorno dei licenziamenti, la grande sfida del terrorismo, la risposta che si potrebbe usare, un termine che si usava in quegli anni, che la classe operaia ha saputo dare. Lei si ricorda, professore, che cosa è stato quando si è scoperto che nel covo delle Brigate Rosse di Genova c'era un operaio di Fiat Mirafiori che era anche un dirigente sindacale, che scatenò un clima dove c'era il terrore che il tuo compagno di banco, che la persona di fianco, che magari si mimetizzava dentro le lotte contro il terrorismo che il sindacato faceva, potesse in realtà essere un infiltrato. Mi ricordo che venne Ingrao, che era presidente della Camera, e non bastavano i locali che il Partito Comunista, che pur allora era una grande organizzazione, aveva, lo portarono alla Camera di Commercio. Ingrao spiegò che tutte le conquiste che erano state fatte per migliorare l'orario di lavoro, per migliorare le condizioni del lavoro, cozzavano in modo irrimediabile contro quell'ideologia che si permetteva di uccidere in nome distorto di un'idea. Tutto questo si è agitato intorno al tema del lavoro, ma c'era un elemento fisso, c'era un elemento che il lavoro era una risorsa quasi naturale, potremmo dire così, nel senso che eravamo abituati al fatto che il lavoro c'era. Tutto il resto attorno poteva cambiare, prendere delle forme anche tragiche, prendere delle forme inedite. Dovevamo aggiustare i nostri parametri, dovevamo fare i conti, l'abbiamo fatto tante volte. Tutto avveniva dentro un rapporto di forza, e i rapporti di forza sono mutevoli naturalmente, dentro un conflitto sociale che determinava poi le organizzazioni e le forme politiche, soprattutto in una città che sembra costruita con le stesse chiave inglesi che si usano nella fabbrica. Però il lavoro era qualcosa su cui si poteva contare, tutto il resto cambiava, il lavoro c'era, ti potevi appoggiare a questo fatto. Il cursus honorum delle persone, fino a oltre la mia generazione, era così, si studiava, si trovava al lavoro e ci si costruiva una famiglia attorno a quelle certezze. Tutto questo è andato in crisi. Noi oggi abbiamo qui a Torino, ne parlavamo col professore, ieri e oggi a Lingotto la riunione delle piccole medie imprese che agitano il problema del lavoro, non agitano un problema corporativo, agitano lo stesso problema del lavoro che viene agitato dai precari, che viene agitato dai disoccupati. È come se ci fosse stato uno schiacciamento. Naturalmente sopra galleggia immutabile quella che il professor Gallino nei suoi libri chiama la classe capitalistica transnazionale, che è come se fosse invulnerabile rispetto a questi problemi. Ma il tema del lavoro è invece un tema che è diventato acuto nella nostra società. C'è stato un restringimento della fascia del lavoro in basso e in alto, in basso perché ci sono dei ragazzi che fino a 35 anni non hanno un posto di lavoro sicuro su cui poter contare, che dia delle sicurezze per la loro vita, diventi un elemento di definizione della loro identità sociale, personale e dall'altra parte ci sono, quindi rimangono esclusi fino a 30-35 anni. Dall'altra parte ci sono persone che vengono espulse a 50-55 anni per la prima volta nel corso della loro esperienza di vita, perdono il lavoro e soprattutto per la prima volta sanno che non lo troveranno. questo problema dell'esclusione è un problema che ci dovrebbe far dire che la coesione sociale nel nostro paese ha qualcosa di miracoloso, perché il processo di esclusione sta tagliando un pezzo di società fuori da quello che è il sistema europeo di garanzie in cui siamo cresciuti e al posto cresce la nuova cifra dell'epoca, che è una cifra esplosiva, che è la cifra della disuguaglianza. In un paese che è un paese irrisolto, che è un paese malato, la disuguaglianza diventa qualcosa di più, diventa immediatamente sproporzione, diventa in qualche caso abuso, diventa in qualche caso privilegio. Tuttavia bisogna dire che il capitale sociale del paese ha tenuto quel misto di relazioni, di connessioni, di interdipendenza, di ammortizzatori familiari, di ammortizzatori sociali che ci sono, hanno consentito al sistema di continuare a essere tale sia pure sotto l'urto della crisi nella quale stiamo vivendo. Aggiungiamoci poi che l'esclusione oggi, esclusione nel senso proprio tecnico, basico del termine, nel senso che chi è escluso è tagliato fuori. Un ceto, una generazione, una fascia sociale è compressa fino all'irrilevanza, un'irrilevanza culturale che porta questa fascia di popolazione quasi all'invisibilità e quindi alla totale irrilevanza di tipo politico. E tutto questo avviene attorno a quel tema da cui eravamo abituati a considerare invece una risorsa in qualche modo naturale, che è quella del lavoro. Stiamo prendendo coscienza che la perdita di lavoro non è soltanto perdita di reddito e perdita di sicurezza economica, ma è una specie di smarrimento dei legami sociali, dell'interdipendenza dei ruoli, del riconoscimento reciproco che ci diamo l'un l'altro attraverso le funzioni che abbiamo nella società, attraverso la risposta che diamo a delle aspirazioni individuali e a delle obbligazioni collettive. E ci accorgiamo anche che la perdita di lavoro è venire meno di diritti, fino al diritto supremo che è il diritto di cittadinanza. Ci può essere lo smarrimento del sentimento di cittadinanza. D'altra parte c'è qualcuno che può pensare che il voto di protesta che abbiamo verificato nelle ultime elezioni sia un fenomeno esclusivamente politico che non ha delle basi sociali. È chiaro che la riduzione del voto a pura protesta nasce proprio da questo sentimento di esclusione, nasce dal senso di esautoramento, di essere spinti fuori dal limite, dell'irrilevanza in qualche modo, da una specie di smarrimento della coscienza civica, da un sentimento di solitudine repubblicana che il cittadino prova. E tutto questo si potrebbe tradurre peraltro in una formula che è molto semplice, che senza la libertà materiale, lo scopriamo oggi, non c'è una vera libertà politica. Perché il lavoro è anche partecipazione, è anche emancipazione, è anche costruzione di sé, è realizzazione della propria libertà in relazione con le libertà degli altri. E quindi in qualche modo la realizzazione della nostra vita insieme con le vite degli altri dentro quella trama che chiamiamo società, che è poi un sistema attraverso cui scegliamo liberamente di stare insieme tendendo al cosiddetto bene comune o a qualcosa di simile. Se si rompe il nucleo di valori che sta dentro la società del lavoro in Occidente, salta tutto questo. Per gli individui va addirittura in crisi, su questo abbiamo ragionato col professor Zagrebelsky, che è il presidente del Biennale Democrazia, in un dialogo che abbiamo fatto qualche anno fa. Per gli individui va addirittura in crisi il rapporto con la democrazia. Perché quando io non sono in grado di far fronte per la mancanza di lavoro, a quelle che sono le mie obbligazioni fondamentali rispetto a quel nucleo di società che mi interpella più da vicino che la mia famiglia, quando io non sono in condizione di rispondere ai bisogni fondamentali e anche alle aspirazioni legittime di realizzazione e di crescita dei miei figli, è chiaro che io posso dire alla democrazia tu non mi servi, tu non mi interessi, perché tu sei un insieme di formule vuote, ma soprattutto non hai delle risposte da darmi per quella che è la mia vita concreta di tutti i giorni. Sei un insieme di principi di fronte ai quali io mi inchino, ma che sto scoprendo per la prima volta che non valgono per me. Nell'unica cosa che conta, la quotidianità della mia vita. E quindi, ancora peggio, la democrazia, possono dire gli esclusi, è qualcosa che viene predicata per tutti, ma che vale soltanto per alcuni. È un regime che vale soltanto per gli inclusi, per i protetti, per i garantiti, ma che sconta in qualche modo l'esclusione degli altri. Naturalmente le disuguaglianze sono state forti, lo sappiamo benissimo, anche nei decenni del dopoguerra che abbiamo vissuto. In qualche caso le disuguaglianze sono state odiose, ma il sistema politico, sociale e economico in cui vivevamo e il suo orizzonte culturale era qualcosa che tendeva all'inclusione. I decenni del dopoguerra, quelli che i francesi chiamano i magnifici 30, gli anni 50, 60, 70, fino alle soglie degli anni 80, sono stati degli anni in cui abbiamo vissuto in una specie di economia sociale di mercato, potremmo dire, dove il capitalismo ha liberato tutta la sua forza e tutte le sue potenzialità, ma è stato temperato nella parte di mondo dove noi viviamo, in particolare nell'Occidente europeo, a differenza dell'Occidente americano, è stato temperato dal welfare state, che è stata una forma di ridistribuzione del reddito verso il basso e di garanzie nei confronti dei più deboli. È qualcosa di profondamente diverso da quella che i conservatori chiamano la democrazia compassionevole, è qualcosa di profondamente diverso anche da quella che gli inglesi e Cameron, l'attuale primo ministro inglese, chiama la big society, e cioè la sostituzione della benevolenza e della beneficenza degli individui e dei gruppi a quella che è l'organizzazione dello stato sociale. Si potrebbe dire in termini più generali la sostituzione della carità al posto dei diritti. Come è chiaro a tutti, la beneficenza non ha bisogno della democrazia per realizzarsi, ma in democrazia la solidarietà sociale ha bisogno di qualcosa di più della beneficenza. E qui arriviamo a uno dei nuclei fondamentali su cui la riflessione del lavoro ci deve far riflettere. Noi ci stiamo accorgendo che sotto la spinta della crisi, che non è neutrale, mai in metafora è stata più sbagliata come quella del tunnel, perché il tunnel basta attraversarlo e rimanere intatti e poi si passa dal buio alla luce e si ritorna come prima. Questo non è un tunnel, è una trasformazione profonda ed è una trasformazione non neutrale. Cioè la crisi opera e opera in una direzione ben precisa. E noi ci accorgiamo che i diritti entrano in campo, i diritti che sono nati nei secoli, nell'ultimo secolo, nei decenni che abbiamo vissuto attorno al tema del lavoro. Noi vediamo tutti i giorni nelle cronache dei giornali, basta pensare all'IVA, basta pensare al referendum di Pomigliano, noi vediamo che i lavoratori si trovano a dover scambiare sotto l'urto della crisi, sotto l'urto della crisi, quindi come se fosse qualcosa di oggettivo, come se fosse qualcosa di inevitabile, i diritti e il lavoro. Che cosa scegli? I tuoi diritti o scegli il lavoro? Se affermi i tuoi diritti perdi il lavoro. Come voti? Che libertà c'è in quel voto? Che libertà c'è in quell'istituto referendario? Questa è una domanda che ho fatto su questo palco a Marchionne quando Repubblica a febbraio ho organizzato due giorni di dibattito intorno al tema del lavoro che avevano il titolo fondata sul lavoro, la Repubblica fondata sul lavoro. Quando io devo scambiare i miei diritti di cui sono consapevole, nei quali ho vissuto nei decenni precedenti, ma arrivati a questo punto io mi trovo a dover decidere di ridurli, di scambiarli, di ridimensionarli, perché altrimenti perdo lavoro, che tipo di libertà ho in questa scelta? E quando, come nel caso dell'ILVA, io devo scambiare i diritti con la salute, che tipo di libertà c'è in questa scelta? Quindi noi prendiamo atto per la prima volta nel dopoguerra che i diritti che sono nati attorno al lavoro nel corso dell'ultimo secolo sono dei diritti nani, in qualche modo, cioè sono dei diritti minori rispetto agli altri, sono dei diritti subordinati, sono dei diritti condizionati, sono delle variabili dipendenti rispetto a tutti gli altri diritti. Guardate che non lo accetteremmo per gli altri diritti, non lo accetteremmo. Sono delle variabili dipendenti che possono venire revocati, se la crisi lo chiede. Eppure fanno parte di quel paesaggio democratico, di quella democrazia materiale, l'abbiamo chiamata con Zagrebelsky, cioè di quel paesaggio di fondo nel quale noi viviamo, fanno parte di quella democrazia materiale nella quale abbiamo vissuto fino adesso, che va a beneficio di tutti indipendentemente dal ruolo che ognuno ha avuto nella definizione di quei diritti. Ma la cifra complessiva della democrazia che si determina negli anni dall'acquisizione di quei diritti è una cifra il cui dividendo va a beneficio di tutti, del padrone come dell'operaio, perché è la condizione della democrazia nella quale noi viviamo. E tuttavia, poiché questi diritti nascono dentro la fase negoziale e quindi sono soggetti ai rapporti di forza, e soprattutto, anche se non lo dice nessuno, perché questi diritti che nascono dal lavoro costano, in quanto rispondono a delle spettanze, come li chiamano i costituzionalisti, a delle spettanze, cioè a degli obblighi che si creano attraverso il lavoro, questi diritti possono venire revocati quando c'è la crisi e sono dunque comprimibili, come non accade per gli altri. Provate a mettere in discussione che qualcuno dica c'è la crisi, bisogna ridurre il voto alle donne, bisogna riportare dai 18 ai 21 anni il voto per tutti, bisogna non avere più la scuola dell'obbligo perché costa troppo, bisogna ridurlo. Ci ribelleremo tutti, non accetteremo questa revocabilità dei diritti, ma nel caso del lavoro sì, ecco perché sono diritti nani nel senso di diritti minori, però è una novità a cui non eravamo abituati. In questo modo il lavoro torna a essere semplice prestazione, non è più creatore di diritti, non è più un attore della dinamica sociale, culturale e quindi politica di un paese, è qualcosa di disincarnato, torna a essere pura merce, perde ogni valore simbolico, perde ogni valore generale, perde ogni valore, ogni significato di tipo politico. E questo accade perché il liberismo, dopo aver generato la crisi, si sta imponendo come il paradossale antidoto della crisi. E sembra che sia l'unica religione superstite per le democrazie occidentali esauste, incapace di produrre una cultura alternativa. Non c'è oggi un confronto culturale e non c'è soprattutto una cultura in occidente, in Europa, che sia capace di mettere insieme capitale, lavoro, welfare state, sicurezza sociale, in un modo diverso, in un modo nuovo, fuori dal paradigma che palesemente ha fallito, che tuttavia continua non solo a ingombrare il campo, ma a dominarlo, perché non c'è una cultura diversa. Ecco, la destra non ha saputo creare una cultura diversa, ma ha interpretato il neoliberismo in un laissez-faire smodato che vale per le vite private, vale per la vita istituzionale, vale per la vita pubblica e politica. La sinistra ha scambiato la modernità per il senso comune altrui e nuota controcorrente, da gregaria. L'establishment molto semplicemente non c'è. Se per establishment si intende non soltanto chi è più fortunato o chi ha avuto più capacità nel Paese di acquistare delle posizioni di rilievo, ma si intende qualcuno che riesce a coniugare gli interessi legittimi di cui è portatore con l'interesse generale del Paese. In questo senso non c'è un establishment in Italia, è una delle carenze maggiori che abbiamo. Abbiamo alcuni network di poteri che staccano dei dividendi di lucro nella situazione di crisi che abbiamo e puntano ad autotutelarsi l'uno con l'altro. La tecnocrazia, che è l'ultimo attore che è sceso in campo, è stata prigioniera di una sorta di, io l'ho chiamato, integralismo accademico, in cui di fronte alla crisi ha fatto valere più i paradigmi studiati sui libri che la coniugazione di questi dati di fondo con la realtà, fino a scoprire che la Costituency europea che ha così sostenuto il governo Monti poi non vota le elezioni politiche e soprattutto fino a toccare con mano che il governo del Paese è qualcosa di diverso da un convegno di Cernobbio. Un altro problema che pesa nella crisi che abbiamo davanti e nella costrizione del lavoro è che il vincolo europeo che, come spiega il professor Gallino nei suoi libri, è tutto basato sulla compressione del deficit più che sulla liberazione delle energie per la crescita, è un vincolo che ha una divaricazione crescente tra la sua forza di costrizione sui cittadini e la sua forza di illegittimazione. Noi oggi abbiamo degli strumenti importantissimi, cruciali del governo europeo, prendiamo la banca centrale europea, che sono diventati dei veri e propri soggetti, soggetti protagonisti, autonomi, influenti nella vita di ognuno di noi senza che nessuno li abbia eletti. Abbiamo delle leadership di fatto, come quella della Merkel, che contano più dei parlamenti nazionali. Abbiamo istituti come la Troica, che contano più delle istituzioni europee da cui derivano. Abbiamo le agenzie di rating che contano più dell'opinione pubblica. Ora non c'è dubbio che da questa crisi bisognerà uscire con più Europa, non con meno Europa. Ma quale Europa? C'è un problema di ritrovare una legittimità al vincolo europeo. Il cittadino deve sentire il vincolo che ci costringe a fare i sacrifici che abbiamo fatto in tutti questi anni, ultimi e che faremo ancora, deve riconoscere la legittimità di questo vincolo. Una legittimità che passa attraverso la rappresentanza. Questi sono i miei rappresentanti. Io li ho scelti, io li ho eletti. E quindi deve riconoscere la legittimità di quel vincolo. Quindi va resettato il rapporto tra sovranità e cittadinanza, tra rappresentanza, sovranità, autorità e cittadinanza. Questo deficit di legittimazione produce un deficit di politica. Il rischio, quanto riguarda i vincoli che ci arrivano dall'Europa, tutto diventi meccanica. Quando i sacrifici, quando il rigore, quando l'austerity non sono temperati dall'indispensabile calcolo del consenso dei cittadini, delle opinioni pubbliche, del sentimento politico, sociale, culturale dei cittadini, diventano pura meccanica, puri parametri. Quindi c'è un deficit di politica, insieme a questo deficit di legittimità, ma c'è un deficit di politica anche nell'altra parte del mondo, nell'altra faccia del mondo. Gli esclusi. Qual è la cultura che li rappresenta? Chi hanno oggi gli esclusi che parla per loro o anche semplicemente, mi accontenterei, che parla a loro? Qual è la politica oggi che parla di questo? Qual è la politica che parla che parla di lavoro? Un lavoro che quando c'è ha bisogno che i suoi diritti vengono difesi e quando non c'è ha bisogno che qualcuno dica che questo è un problema di libertà, mentre non c'è oggi questa capacità di rappresentanza. Col rischio, come si è visto in Grecia, che è una destra estrema, agiti queste tematiche che sono tipicamente di sinistra, in una strumentalità anti-europea, ricreando un sentimento nazionale e sociale in forme nuovissime e molto pericolose. Ma ho finito questo primo intervento. L'alleanza tra capitale, lavoro, welfare, cioè quel sistema nel quale consapevolmente e inconsapevolmente abbiamo vissuto in tutti questi anni, è l'identità naturale della parte di mondo dove noi viviamo, della democrazia rappresentativa dell'Occidente in tutti questi decenni. Se salta questo rapporto, e questo è il punto decisivo, salta il tavolo di compensazione dei conflitti, quello che ha tenuto insieme i vincenti e i perdenti della globalizzazione, in un nesso comune di destino e di interdipendenza, quello che prima ha tenuto insieme i vincenti e i perdenti del boom, delle varie contingenze economiche che abbiamo attraversato, dei momenti di crisi, dell'avvento dei nuovi motori tecnologici che hanno incluso delle forme nuove di lavoro e ne hanno scuse degli altri, tutto questo è stato tenuto insieme in questo nesso, in qualche modo, di destino comune, che è quello che ci ha consentito di scusare le disuguaglianze nelle quali siamo vissuto. Noi abbiamo potuto tollerare le disuguaglianze perché esisteva questo tavolo di compensazione dei conflitti e i più fortunati erano legati palesemente da un destino comune, da un tetto, come l'ha chiamato una volta Gallino, da un tetto sovrastante che teneva insieme appunto i vincenti e i perdenti, i vittoriosi e gli sconfitti. Fuori da questo libero vincolo tra il capitale, il lavoro e la cittadinanza, è quasi impossibile, è molto difficile trovare una nuova forma di legittimazione che valga per tutti, trovare qualcosa che valga per l'imprenditore, che valga per il lavoratore e che li tenga in qualche modo insieme. Fuori da tutto questo, noi dovremmo riscrivere il contratto sociale, non sappiamo con che penna, con quale carta, con quale inchiorto scrivelo, dovremmo riformulare le obbligazioni reciproche che abbiamo, le protezioni che ci concediamo, le opportunità che ci riconosciamo, in una parola i nuovi diritti, i nuovi doveri, il rischio che le nuove legittimazioni nascano fuori dal concetto del lavoro e che scontino l'esclusione, e cioè che la nuova legittimazione che noi riscriveremo non sia una legittimazione democratica. Io capisco che è un concetto molto forte, però guardate che noi abbiamo già visto che il mercato sia autonomizzato dagli stati, che il mercato sia in qualche modo autonomizzato dal lavoro, che in qualche modo il lavoro sia autonomizzato dai lavoratori, che il mercato finanziario sia autonomizzato dall'economia, che l'economia si sta autonomizzando dalla politica, dice le mie leggi valgono in assoluto, stai fuori, non accetto un vincolo dalla politica. Perché non dovrebbe esserci l'ultima autonomizzazione della politica e della democrazia? Perché tra qualche tempo non dovremmo trovarci a trattare l'esclusione come un fatto di ordine pubblico e non un fatto politico, culturale e sociale? Questo è il rischio che abbiamo davanti. Buongiorno a tutti. Vorrei parlare soprattutto di lavoro, di disoccupazione e dei modi che bisognerebbe cercare di attuare per creare lavoro. Parto da una considerazione di fondo. la perdita del lavoro, la disoccupazione, il lavoro precario, sottopagato, l'inattività non voluta, ma inevitabile dinanzi al fatto che il lavoro semplicemente non c'è. Sono una delle ferite principali che si possono infliggere all'esistenza di una persona, di una famiglia, di una comunità, di un intero paese come il nostro, ma questo qualcosa di simile avviene anche in altri paesi. Disoccupazione, non lavoro, lavoro precario non significa soltanto perdita del reddito o reddito scarso, significa molte altre cose. Vorrei citare a questo riguardo le parole di un costituzionalista che è americano in questo caso, che è interessante citarne anche perché gli Stati Uniti non è precisamente il paese in cui i diritti del lavoro siano più fervidamente sostenuti. Cosa diceva, cosa dice questo costituzionalista parlando dei costi personali e sociali del non lavoro, della disoccupazione? Diceva, se un lavoro stabile, adeguatamente pagato è una fonte di indipendenza, la sua assenza significa dipendere da altri. Se il lavoro è un percorso verso la realizzazione personale, la sua assenza significa fallimento. Se il lavoro offre la possibilità di salire su per la scala socio-economica, la sua assenza vuol dire che la propria posizione sociale è bloccata o in declino. Se provvede sicurezza la famiglia, la sua assenza comporta insicurezza. Se sollecita la stima di altri, la sua assenza significa vergogna. Sono aspetti al di là della perdita di reddito, al di là della stessa povertà, perfino al di là delle disuguaglianze che bisognerebbe avere ben presente quando si parla di lavoro. La cosa intorno a cui dobbiamo ragionare è che cosa mai è avvenuto, dove è finito il lavoro, perché è un problema per il nostro paese, un po' più grande che non in altri, ma è un problema che possono anche in molti altri paesi, compreso gli Stati Uniti. Siamo di nanzi a un fatto che non è storicamente nuovo, ma è nuovo negli ultimi tre quarti di secolo. Si sta parlando per l'Italia, ma anche per l'Europa, per la UE di grande recessione. Prima o poi si dovrà usare un termine ancora più pregnante, ancora più esatto, la grande stagnazione. Che significa stagnazione? Stagnazione significa che le imprese smettono di investire, smettono di rinnovare gli impianti, perché scoprono che le vendite calano, che i loro prodotti non vanno più sul mercato, scoprono che impianti che potrebbero produrre 100 in realtà debbano produrre 60 perché altrimenti non si riesce a vendere quello che si è prodotto e così via. Stagnazione significa imprese che richiedono sempre meno personale, sempre meno lavoratori, perché non sanno che cosa produrre, quanto produrre a chi in qualche modo venderlo. E imboccano spesso, hanno imboccato spesso, soprattutto le grandi imprese, strade sbagliate, cercando di comprimere soprattutto il costo del lavoro. Ma la comprensione del costo del lavoro significa minore domanda e quindi aumento della stagnazione. Ma la stagnazione, cioè non proprio il blocco dell'attività economica, ma il rallentamento dell'attività economica, l'eccesso di attività produttive, che tocca moltissimi settori, dagli elettro domestici all'auto, agli auto, a quantità dei settori, da dove viene? Ma viene dal fatto che il capitalismo non è propriamente un sistema economico che continuamente inventa, si rinnova, ha qualche piccola crisi ma poi rilancia, riparte, eccetera. Il capitalismo è un grande sistema economico, diciamo pure il migliore o il meno peggio che il mondo abbia finora inventato, che ha dei lunghi periodi di accumulazione, di sviluppo in cui si aprono nuovi impianti, si aprono nuove officine, si aprono nuove uffici, si assumono milioni di persone, ma poi inevitabilmente cade in qualche tipo di stagnazione. Per ripartire il capitalismo ha bisogno di sferzate, ha bisogno di innovazione, ha bisogno di pungoli che possono venire o da grandi invenzioni e spesso vengono anche dagli impulsi che lo Stato può dare. Le grandi invenzioni sono state, non so, nell'Ottocento le ferrovie, poi il telegrafo, poi il telefono, all'inizio del Novecento l'auto e così via. Sono state altre tante pungole, altre tante sferzate che hanno spinto le imprese a investire perché anticipavano che per molti anni ci sarebbe stato un mercato, ci sarebbero stati milioni di nuovi consumatori e poi questa spinta gradualmente si è esaurita e il sistema è entrato ormai da parecchi anni in una nuova fase di stagnazione, tanto che molti parlano di crisi infinita, crisi senza fine se non si procederà a qualche nuovo tipo di stimoli. Il sistema economico stagliante è un sistema economico che non assume, che non crea lavoro, che se non è fermo lavora al rallentatore. Allora che cosa fare per creare lavoro? Non ci sono molti mezzi, ce ne sono al massimo 4 o 5, in un lavoro che sto terminando, individuati grossomodo 4 e dopo le quali, ciascuna delle quali dovrebbe essere esaminata a fondo per vedere che cosa si può fare per creare nuovamente lavoro. La prima strada è quella delle grandi invenzioni, le grandi invenzioni che permettono alle imprese grandi ricavi per lunghi periodi come, mi ripeto, le ferrovie nel 1800, l'automobile e gli elettrodomestici negli anni 50-60, inizio anni 70, parte centrale nel 900, poi la ICT, informatica e telecomunicazione verso la fine del secolo e il primo decennio del 2000. Qui siamo nel campo delle sferzate esogene di cui il capitalismo ha bisogno per poter ripartire. Dove sono le invenzioni? Il fatto è che non si vedono, anche perché quanto a grandi invenzioni siamo più o meno indietro di un secolo, di un secolo abbondante. Le grandi invenzioni che hanno cambiato il mondo sono state le ferrovie, 1840 e poi, sono stati il telegrafo. Intorno al 1870 il telegrafo connetteva, come si dice oggi, in tempo reale le borse di Parigi, Berlino, Londra, New York, con una velocità comparabile più o meno a quella della posta elettronica. L'aereo ha esordito i primi nel 900, ma sulla base di studi precedenti, l'auto è stata inventata nell'800. Il 900 è stato un grande perfezionatore che ha avuto il merito di portare alla portata, all'altezza delle famiglie, tutta una quantità di nuovi prodotti che hanno migliorato indubbiamente la vita. Però, al momento di grandi invenzioni che servono da sforzata per poter far ripartire l'intera economia atlantica, Europa e Stati Uniti, magari anche quelle dei paesi emergenti, probabilmente non si vedono, si continuano a perfezionare. Probabilmente ci vorrebbe qualche nuova grande invenzione che per il momento però non si vede. Una seconda strada per creare occupazione è la spesa pubblica. Oggi la U e soprattutto, magari gli Stati Uniti, sono un po' sotto la cappa della isteria del deficit, mentre il deficit di bilancio è stato per secoli uno strumento indispensabile di politica economica. Sta il fatto che storicamente una strada efficace per creare l'occupazione è stata la spesa pubblica, a volte sotto forma di molte grandi opere infrastrutturali, spesso anche oggi in minor misura, ma nella parte centrale del Novecento è stata determinata, le spese belle che le spese in armamenti. Oggi si potrebbe pensare non tanto a grandi opere perché il lavoro lo fa la tecnologia, lo fanno i grandi mezzi di produzione, non lo fanno le persone e bisogna pensare a migliaia di piccole opere ad alta intensità di lavoro. Comunque quella è la seconda strada. Una terza strada è lo Stato che crea direttamente posti di lavoro come hanno fatto ad esempio gli americani durante il New Deal tra il 1933 e il 1938, quando sono stati creati circa 15 milioni di posti di lavoro e la disoccupazione è stata ridotta dal 25% al 2014, con molta fatica ma anche con un discreto successo. Poi c'è la strada che è un po' quella che segue il nostro governo, ma segue anche gran parte dell'Europa, è quella delle politiche fiscali. Lo Stato riduce le imposte alle imprese per incentivare ad assumere, c'è una leggina ad esempio che dice, vi diamo 10 mila euro per ogni neolaureato che assumete, alleggerisce un po' le imposte alle persone, si parla da noi di riduzione del cuneo fiscale, anche se quelle non sono propriamente imposte, ma sono contributi che lavoratori e imprese versano per il sistema sanitario e soprattutto per le pensioni. Sta il fatto che lo scopo ultimo delle politiche fiscali è quello di far aumentare la domanda aggregata lasciando una maggior disponibilità di denaro a imprese e contribuenti. Il problema è che i nostri governi, non solo l'ultimo con particolare durezza, ma già i governi precedenti, hanno pensato soprattutto a questa quarta strada per creare occupazione, che è quella delle politiche fiscali, che significa distribuire a pioggia un pochino più di reddito a tante famiglie affinché queste aumentino la domanda. E' una strada sostanzialmente poco efficace per tanti motivi. Il primo motivo è che non discrimina tra i posti di lavoro, tra i tipi di lavoro che vengono creati. Va benissimo creare un posto di lavoro in un fast food, però nel quadro di una certa idea di società forse potrebbe essere più interessante creare un posto di lavoro, più o meno allo stesso costo, in un centro di ricerca o magari in una scuola creando un posto per insegnante. Poi c'è il fatto che se le famiglie dopo anni di recessione hanno un pochino più di soldi, che significa poi qualche centinaio di euro l'anno nel migliore dei casi, e non è detto affatto che li impiegano per aumentare la domanda. Magari li impiegano per ricostituire i risparmi o restituire i debiti fatti con i parenti o con gli amici, ma fanno questo piuttosto che spendere. Inoltre c'è il problema che le imprese, non è che leggendo sulla gazzetta ufficiale, che il 2 gennaio è entrata in vigore la tale legge che offre incentivi per l'assunzione di giovani diplomati o laureati, si precipitano ad assumere. Aspettano di vedere che cosa succede, aspettano di vedere se la domanda aumenta. Invece di assumere a gennaio forse assumono qualcuno a novembre o non assumono affatto. Insomma, ci sono molti studi che dicono che questa è la strada meno efficace per creare lavoro. È anche la strada seguita dal nostro governo e da quasi tutti i governi europei per cercare di creare occupazione in confronto di una disoccupazione che solo per quanto riguarda il dato diretto dei disoccupati secchi, disoccupati e veri e propri, quindi lasciando da parte precari, ha superato nella UE i 25 milioni di persone, più di 4 in Italia. Se vuoi pensare alla seconda strada, l'aumento della spesa pubblica. Negli anni 30 la spesa pubblica ebbe un grande successo sia negli Stati Uniti sia in un altro paese, che era la Germania. In Germania furono costruite le autostrade, furono prodotte a basso prezzo milioni di radio, perché era un buon sistema per diffondere la propaganda del regime e soprattutto furono spese quelle che oggi sarebbero miliardi di euro per armamenti. Negli Stati Uniti, come ricordavo, ci fu il New Deal. Il New Deal fu un grande caso di civiltà del lavoro, anche se nessun successo non fu completo perché ridusse il tasso di disoccupazione dal 25% al 15% e naturalmente i critici dicono, ma perché non l'avete ridotto al 3% o al 5%. Fu poi ridotto allo 0,5% quando incominciarono nel 1940 le spese di armamenti, le spese belliche. Però il New Deal si fondò su tre grandi agenzie, non starò a ricordare i nomi, che nel giro di tre mesi assunsero 4 milioni di persone e poi in parecchi anni ne assunsero 15 milioni a carico dello Stato. E non lo fecero, come dice qualche critico, per far sì che i nuovi assunti dallo Stato scavassero buche che altri poi riempivano. Hanno ricostruito, strutturato 100.000 scuole, hanno ristrutturato centinaia di migliaia di chilometri di strade, sia di strade asfaltate sia di strade sterrate nelle campagne. Hanno costruito dighe immense come quella della valle del Tennessee. Hanno tolto dalla strada, soprattutto dai soborghi degenerati delle grandi città, milioni di giovani e li hanno addetti a ricostruire e espandere i grandi parchi nazionali. Durante il New Deal furono piantati nei primi 3-4 anni un miliardo di alberi e furono ristrutturati quasi tutti e ampliati i grandi parchi nazionali. Oggi si parla anche di un New Deal per l'Europa, ma dato che, come ricordava opportunamente il direttore Mauro, dato che il liberismo imperverso nelle menti dei politici europei, pensare a qualcosa di simile a un New Deal per l'Europa non è un'opzione che sembra ancora praticabile, anche se forse bisognerebbe cominciare seriamente a pensare, non tanto a grandi opere e meno che mai ovviamente ad armamenti, ma a migliaia di piccole opere, a decine di migliaia di piccole opere ad alta intensità di lavoro per la loro natura. C'è il problema delle scuole che non sono a norma di sicurezza, c'è il problema del riassesto idrogeologico dell'intero Paese, c'è il problema degli acquedotti che perdono il 40% dell'acqua tra la sorgente e il rubinetto. C'è il dramma dei trasporti regionali, chiunque viaggi regolarmente su qualche treno regionale sa che cosa voglio dire, ci sono i problemi della mobilità nelle città, ci sono 20.000, parlo solo dell'Italia attualmente, ci sono 20.000 autobus urbani che cascano a pezzi e che bisognerebbe sostituire per far sì che il trasporto in città sia una cosa civile. Non mancano le migliaia di piccole opere su cui si potrebbe investire. C'è poi una certa strada che naturalmente è ancora più indigesta a chi pensa che lo Stato debba essere sempre più piccolo, sempre meno impegnato, sempre più disinteressato con i risultati che vediamo. Uno degli incredibili paradossi che ci stanno addosso, che ci affliggono, l'ha ricordato opportunamente Ezio Mauro prima. Il disastro è stato causato dalle teorie politiche, economiche, anche sociali, civili del neoliberalismo o liberismo come voglia si dire. Adesso le ricette vengono dalle stesse parte che è come constatare che un medico ha quasi ucciso il paziente e usare lo stesso medico per continuare a curarlo. Forse bisognerebbe cambiare il medico. La strada che volevo ricordare però è quella dello Stato che crea direttamente posti di lavoro. Si chiama in vari modi garanzia del posto di lavoro o Stato come datore di lavoro di ultima istanza. In questo caso lo Stato non è che deve fare molto, deve stabilire delle regole e poi affidare l'assunzione effettiva ai servizi per l'impiego, alle regioni, ai comuni, al volontariato, al partenariato, alle piccole imprese, alla quantità di operatori locali sul territorio. Però lo Stato li paga direttamente per adibirli eventualmente a molte, moltissime piccole opere alla condizione che gli assunti siano immediatamente messi al lavoro. Naturalmente la domanda che viene fuori e che non posso approfondire qui è ma chi paga questo? Per intanto nella stessa domanda c'è qualcosa di distorto perché non è che la disoccupazione non costi nulla, la disoccupazione costa decine di miliardi di euro l'anno di mancata produzione, mancato PIL, mancato valore aggiunto, mancati reddit alle famiglie. Vuol dire miliardi di entrate per lo Stato in meno, vuol dire meno contributi per la protezione sociale e oltre a questo si potrebbero anche pensare a varie strade anche a livello europeo se i nostri parlamentari, quelli nuovi almeno, ripensassero all'enorme errore che hanno fatto approvando in 448 all'unanimità tanto la modifica della Costituzione per l'inserimento in essa del pareggio in bilancio quanto del patto fiscale che impegna il nostro Paese a rientrare dal debito a un ventesimo l'anno scendendo dal 125% al 60% in 20 anni che vuol dire un costo intorno ai 50-60 miliardi l'anno se mai ci ponessimo ci ponessimo mano. Bisognerebbe che nell'agenda politica, nell'agenda per il nuovo governo tra i cittadini si dibattesse finalmente di queste cose. Abbiamo dinanzi a noi un problema che sta diventando una catastrofe. Gli americani usano per casa loro il termine catastrofe senza girarsi tanto intorno. In alcuni Paesi europei le cose vanno un po' meglio ma non molto. Per noi si tratta veramente di un dramma catastrofico che dovrebbe essere il punto primo, il punto uno, il punto assolutamente centrale di qualsiasi discorso sulla prossima attività del governo. del governo. Concludo rimandando a un paio di principi giuridici che sono sicuramente tra i principi giuridici più ignorati del mondo. Il primo sta nella dichiarazione universale di diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1948, quasi all'unanimità. È uno dei grandi documenti della civiltà giuridica del Novecento. L'articolo 23 dice ciascuna persona, ciascun essere umano ha diritto al lavoro, alla libera scelta di un'occupazione, a giuste e favorevole condizioni di lavoro e dalla protezione dalla disoccupazione. Il comma 3 del medesimo articolo dice Chiunque abbia un lavoro ha diritto ad una giusta e favorevole remunerazione, tale ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza consola alla dignità umana e integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. Dichiarazione universale di diritti dell'uomo, 1948. Ma c'è anche la Costituzione italiana, per venire un po' più vicino a noi, perché, dato la erosione, chiamiamola benevolmente così, dei diritti del lavoro che si è vista in questi ultimi decenni, si è ragionato e discusso soprattutto dell'articolo 35 della Costituzione, che parla al plurale dei diritti del lavoro. E però c'è l'articolo 4. L'articolo 4 della Costituzione italiana dice La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Sarebbe bello sentire un certo numero di parlamentari, possibilmente elevato, che nel Parlamento si chiede in che modo dare vigore, forza, capacità di realizzazione a questo articolo della Costituzione. Grazie. Abbiamo sentito queste citazioni della Costituzione, su cui ci siamo trovati a riflettere negli ultimi anni. In realtà abbiamo dovuto arrivare fino ad oggi per capire che la formulazione dell'articolo 1 non è una formulazione retorica, come potevamo forse pensare nei decenni precedenti, quando appunto il lavoro era una risorsa fissa del nostro Paese, che comportava anche poi alcuni vizi, un Paese con una scarsissima mobilità, nel senso che il posto fisso era una caratteristica particolare dell'Italia. Moltissime persone entravano in un posto di lavoro giovanissimi, ci rimanevano per tutta la vita. E però con il lavoro come risorsa fissa l'ascensore sociale funzionava, i padri facevano dei sacrifici che sapevano, man mano che questi sacrifici prendevano corpo, che sarebbero serviti nel proiettare i figli al di là del proprio orizzonte di vita, in condizioni culturali, in condizioni economiche, in condizioni sociali diverse. diverse. Era un'acquisizione progressiva del sentimento della cittadinanza, di cui abbiamo parlato prima in negativo, che viene meno, si affievolisce man mano che viene meno il lavoro. Era un'acquisizione complessiva, era appunto quello che teneva insieme i più deboli con i più forti. Anch'io posso crescere. Il disegno complessivo di società, che consente a te di liberare tutte le potenzialità del capitalismo, consente però anche a me di crescere, di avere un ruolo, di investire sul futuro. Le ultime pagine del libro di Gallino sulla lotta di classe, dopo la lotta di classe, è un libro provocatorio, che ha un apparato documentale che dovrebbe far riflettere molto sulle disuguaglianze, sulle sproporzioni, sui privilegi, sugli abusi. E ha un apparato di idee notevole. Le ultime pagine sono proprio su questo punto, sulla mancanza di fiducia nel futuro, sulla mancanza di investimento nel futuro. E è singolare pensare che ne parliamo qui perché la fiducia nel futuro è legata al lavoro. Ma è così. Non è una formula vuota dire che il lavoro rende cittadini. Simone Weil diceva rende liberi. Ma rende liberi, a mio parere, in quanto rende cittadini. E quella è la condizione della libertà nella società in cui viviamo. Acquisire la coscienza dei propri diritti. E poi una volta acquisita la coscienza dei propri diritti, che non c'è soltanto lo scambio tra il lavoro fisico e dipendente che io faccio, le ore che ti do in cambio del mio lavoro, il salario che tu mi dai, ma tutto questo porta a una realizzazione di me, in un disegno complessivo in cui vedo gli altri intorno a me, prendo coscienza dei miei diritti, e a un certo punto questa coscienza è così compiuta che io alzo lo sguardo e metto i miei diritti in una scala di riferimento generale e prendo coscienza dei diritti complessivi e di che cosa bisogna fare per rimuovere le disuguaglianze e per muoversi in una direzione politico-culturale che è quella che mi sono formato attraverso la mia esperienza quotidiana di vita, le relazioni che ho intessuto nel posto di lavoro, la comunità che c'è dentro il lavoro e attorno al lavoro. Melville diceva che questa città sembra costruita da un unico architetto e da un unico ingegnere con le strade tutte uguali e le case tutte uguali, ma io questo dato suggestivo l'ho sempre preso sotto un altro aspetto, che effettivamente la fabbrica intesa appunto come produzione di coscienza coscienza complessiva e per quello che mi interessa più la coscienza del cittadino che la coscienza di classe, per quanto anche la coscienza di classe è stato un motore attraverso il confronto, attraverso il conflitto sociale, è stato un motore di diritti, è stato un motore di conquiste complessive che formano quella democrazia materiale nella quale tutti viviamo, che è quella che viene messa in discussione oggi, credendo di comprimere i diritti di qualcuno, si riduce la cifra complessiva della democrazia materiale nella quale tutti viviamo, il paesaggio di sfondo che noi abbiamo attorno, nel quale ci muoviamo, mentre teniamo ben stretti i nostri diritti, dicendo non tocca a me comprimo soltanto quelli, ma si riduce l'illuminazione complessiva della società, la cifra complessiva della democrazia. Però la fabbrica, come creatrice della fabbrica, il lavoro in quanto tale, la fabbrica non solo la fabbrica, ma a Torino è più facile usare questo concetto che fuori da Torino diventerebbe più difficile impiegare e sarebbe capito meno, un concetto un pochino dell'altro secolo. Tuttavia ci capiamo in questa città, ci capiamo da piemontesi, che cosa vogliamo dire quando diciamo questo. Voi pensate gli immigrati che sono arrivati qui negli anni Sessanta, il processo di acquisizione della cittadinanza che hanno fatto attraverso il lavoro e poi la proiezione nella città, cioè nella vita quotidiana, scoprire che le acquisizioni di coscienza che avevano fatto all'interno, l'essere diventato cittadino, aveva poi un'estensione nella città, perché qui poi sono nate le organizzazioni sindacali, qui poi sono nate delle organizzazioni politiche, che andavano ben oltre la tutela di interessi e di un perimetro di classe, andavano nel senso appunto del far parte della vita associata, prendendo parte, prendendo una parte, e incontrando altre parti sul proprio cammino immediatamente, quindi dovendosi confrontare nella scoperta di quella che è la cultura politica prima ancora della politica. E' tutto questo che viene messo in crisi dalla mancanza del lavoro o dalla compressione del concetto di lavoro. Viene messo in crisi quel concetto, diceva Gallino, di fiducia nel futuro che è automaticamente fiducia nel cambiamento, ma fiducia nel cambiamento è fiducia in me stesso, in ciò che io posso fare come parte di un'azione collettiva. la coscienza e la fiducia che il mio ruolo individuale dentro un'azione collettiva può dare delle risposte a dei problemi comuni, può spostare in avanti il tentativo di dare risposte a problemi comuni. Oggi sta venendo proprio l'opposto, il tentativo di dare risposte individuali a dei problemi collettivi. questa atomizzazione, questa individualizzazione, porta al fatto di cercare degli spicchi di risposta individuale dei problemi comuni e di non sentire più la necessità o di non sentire più il bisogno, o peggio di sentire l'inutilità dell'azione collettiva in qualche modo. E' il venir meno della politica, così come l'abbiamo conosciuta in tutto il Novecento. E' la perdita di coscienza della partecipazione. La partecipazione non serve più in qualche modo. Come se non fossero possibili delle speranze collettivamente condivise. Come se non ci fosse appunto quel riconoscimento comune, quel tetto comune sotto il quale ci muoviamo, comunque la pensiamo, l'idea dell'emancipazione culturale, dell'emancipazione politica, dell'emancipazione economica, sociale, che maturava attraverso il lavoro. Quella che in quel dialogo che ricordavo prima con Gustavo Zagreveschi abbiamo chiamato la felicità della democrazia. Gallino dice che in qualche modo questa è la ragione della storia, cioè la ragione che conferisce un senso alla storia. Credere che sia possibile partecipare, che abbia un significato, che quello che facciamo ha un significato al di là del nostro vantaggio individuale, che ha un significato più generale. La mancanza del lavoro è la mancanza di questa speranza, la mancanza di questo ruolo, la mancanza di questa coscienza. È la mancanza del cittadino in qualche modo. Ci riduciamo a essere ciò che siamo senza chiederci se come cittadini possiamo fare qualcosa di più. E questo comporta la crescita del populismo. Non si può ignorare la cornice politica quando parliamo del lavoro. Se no accetteremmo il paradigma attraverso cui è la crisi che determina tutto questo, la crisi è qualcosa di oggettivo e quindi possiamo soltanto alzare le mani. Non è così. Dipende anche da noi. Certamente abbiamo di fronte delle dinamiche che non dipendono da noi. Ma ciò che noi facciamo, ciò che noi vogliamo essere, il ruolo che noi vogliamo giocare in questa partita, quello dipende da noi. E noi stiamo scegliendo al di là delle opzioni politiche, non sto parlando di politica nel senso di partito. Vorrei tentare di fare un discorso più generale. Noi stiamo riducendo, proprio perché non siamo capaci a conservare la possibilità di essere cittadini attraverso il lavoro, le interdipendenze, i ruoli che abbiamo, il riconoscimento attraverso le funzioni che ognuno di noi ha nella società, il tenerci insieme in quel nesso di destino comune che abbiamo chiamato società, liberamente scelto, con le obbligazioni reciproche che ci scambiamo, con gli obiettivi di crescita che ci riconosciamo, le opportunità che ci riconosciamo l'un l'altro. Ecco, noi riduciamo la politica al populismo. Il populismo ci va a prendere proprio lì dove siamo finiti, non ci va a prendere nella nostra dimensione collettiva. Il populismo, comunque sia di destra o di sinistra, non faccio un discorso di partito, il populismo ci va a prendere come ci siamo ridotti nella nostra atomizzazione. Infatti ci dice non occuparti della cosa pubblica, non pensare ad azioni collettive, delega a me una volta ogni cinque anni con il voto e dammi una vibrazione di consenso ogni volta che è necessario. A tutto il resto penso io. E il mio discorso, il mio discorso politico, io populista, è un discorso che scorre in un senso soltanto, verticale, dall'alto verso il basso, non ha il ritorno, se non sotto forma di applauso e appunto di vibrazione di consenso. Ma è questo il modello culturale di politica che noi vogliamo? Non è quello in cui siamo cresciuti, ma non è quello che vogliamo, perché non ci dà un ruolo, ci dà un ruolo esclusivamente passivo. Si parla esclusivamente in una direzione verticale, ci si riduce a platea, è questo che noi vogliamo? E possiamo rispondere soltanto con un sì, con un no. Magari per via telematica, dove le sfumature non sono possibili, magari per via referendaria, dove lo spazio per le sfumature non c'è. la crisi sta trasformando anche la politica. Su questo si è riflettuto troppo poco. Non è che la crisi trasforma soltanto l'economia, trasforma solo il lavoro. Trasforma la politica che trasforma le nostre vite individuali. Si sta realizzando la profezia di Bauman, la politica si riduce a una serie di eventi. Ma questo che cosa vuol dire? Che il leader politico si trasforma in idolo, che l'autorità si trasforma in notorietà, che la fama sostituisce la stima, che l'audience sostituisce la comunità e alla fine che il cittadino diventa spettatore e l'ultimo spenga la luce. E' questo che noi vogliamo? E' questo il ruolo migliore che noi possiamo giocare? Tutto questo poi ha delle riduzioni di semplificazione. I populismi sono soprattutto e la loro grande fortuna, la loro grande capacità in momenti di complessità, di perdita del controllo. Il sentimento dominante è un sentimento di perdita di controllo di fronte all'urto della globalizzazione. Non c'è più il confine nazionale che tiene insieme le dinamiche, le dinamiche ci sfuggono. I livelli si mescolano, la produzione va fuori. il 95% dei giocattoli del mondo sono prodotti in Asia, il 95%, ma l'80% di molte altre produzioni sono mai prodotte in Asia. Il sentimento di perdita di controllo, noi pensiamo alle piccole comunità, noi viviamo in una grande città, pensiamo alle piccole comunità di montagna, di campagna, che non riescono a reggere neanche l'inversione di conoscenza che si è determinato all'interno delle nostre famiglie, dove di fronte alla rivoluzione di internet i nostri figli ne sanno infinitamente più di noi, ma soprattutto qualcuno si sente tagliato fuori anche da tutto questo. In questo senso di spaesamento generale, di perdita di controllo, il populismo ha successo per le ragioni oggettive, perché è una semplificazione, e soprattutto semplificazione. Guardate anche l'ideologia dello streaming, l'ideologia dello streaming è semplificazione, ma dietro che concetto c'è? C'è un concetto di controllo, come se la politica fosse per definizione sempre, comunque, una cosa sporca, che ha bisogno di essere messa sotto controllo. Non è così per nessuna attività umana, nonostante gli errori tremendi, nonostante le colpe, nonostante i disastri che sono stati compiuti della politica. La politica non è una cosa più sporca delle altre attività che abbiamo fatto prima di venire qui come cittadini e che faremo dopo quando usciamo di qui e neanche di quello che stiamo facendo adesso, qui, in questo momento. Non ha bisogno di essere messa sotto controllo più di quanto ne abbia bisogno di essere messo io mentre faccio il mio lavoro. Che cosa comporta questo concetto? Andiamo avanti ancora di qualche passo. comporta l'idea che può esserci un risponditore automatico perché la politica non può mai stupirmi, perché la politica non potrà mai più incantarmi. Il paradigma è quello che è dato dall'inizio. Andiamo allo streaming, andiamo ai confronti, ma tanto la risposta automatica, potresti prendere un biglietto nel blocchetto come nelle fiere, quei biglietti viola che si davano una volta, la risposta è lì dentro, come le probabilità al monopoli. Ma la politica è un'altra cosa, è un incontro di provocazioni, è un incontro di opportunità, è un incontro di progetti, di schemi di vita, di soluzioni, di piani. Ha la possibilità di stupirci, se perde questo che cosa resta? Ha la possibilità di riaccendere delle speranze, la deve ritrovare, altrimenti è perduta, ma siamo perduti anche noi, perché non c'è nient'altro in una società democratica che si può sedere a capotavola al posto della politica. Nessun potere forte si deve sedere a capotavola al posto della politica, perché la politica è l'unica che deve avere in mano il mazzo e deve distribuire le carte per la ragione semplice, non per un diritto divino, perché è l'unica che può armonizzare il libero gioco degli interessi legittimi di parte con l'interesse generale. Guai se un altro potere si sostituisse a questo. Poi certamente la politica ha un problema tragico, tragico di riconquista della legittimità e della credibilità, tragico. Un sondaggio di Ilvo Diamanti su Repubblica prima delle elezioni diceva già tutto, i partiti hanno il 5% della fiducia nei cittadini e siamo stupiti, ma professore se le dico che nello stesso sondaggio il Parlamento della Repubblica ha l'8% della fiducia dei cittadini, qual è la risposta? Siamo sotto la legge di gravità, una democrazia non può stare in piedi, cade per terra, non può stare in piedi con l'8%, non può stare in piedi, va ricostruito un circuito di fiducia, è un problema della politica, ma è un problema anche nostro, è un problema anche nostro, non possiamo, Bobbio diceva che le teste o si tagliano o si contano, si è deciso che più economico è più profittevole contarle piuttosto che tagliarle, non c'è un altro modo e quindi o ricostruiamo un circuito di fiducia con la politica e la facciamo funzionare o altrimenti queste dinamiche di cui abbiamo parlato fino adesso in tutta la prima parte della nostra discussione domineranno le nostre vite perché l'unica cosa che può contrastarle in qualche modo è una cultura politica che stia in campo e provi a modificare i paradigmi dominanti fin qui che hanno palesemente fallito e tuttavia sono lì, sono lì proprio per l'incapacità di mettere in campo qualcos'altro. Guardate ancora un passo in più che cosa c'è dietro lo streaming che cosa c'è dietro lo prendo come esempio ma potremmo inserire una categoria più generale dei populismi che cosa c'è dietro questa ideologia del controllo questo sospetto continuo ho bisogno di guardarti salvo quando faccio le riunioni io in casa mia con i mielli lo streaming non c'è ma comunque non vorrei fare della polemica mi interesserebbe di più portare avanti di 5 cm il ragionamento sui fenomeni piuttosto che fare polemica ma è una cultura del sospetto è una cultura che io ti devo tenere d'occhio io ti devo tenere d'occhio ma inseriamo il concetto americano anglosassone della contability tu mi devi rendere conto la parola chiave del discorso di insediamento di Obama ci sono quei diagrammi su internet lei forse sa il nome dove la costanza delle parole la frequenza delle parole e il tono con cui le parole vengono usate dà una rilevanza ai concetti trasformati in parole diversa secondo l'uso che ne viene fatto la parola chiave del discorso di insediamento di Obama è la parola responsabilità e non a caso la parola di un democratico che è arrivata dopo due mandati di un presidente conservatore la responsabilità significa sapere che c'è un io e c'è un voi che siamo uniti insieme non dalla delega che mi avete dato ma dal fatto che io eserciterò la delega secondo il programma che ho fatto e ve ne dovrò rendere conto in qualche modo dovrò renderne conto questo è il principio non il sospetto non la politica è una porcheria non è questo il punto la politica è il sistema di governo e di controllo delle dinamiche che si svolgono liberamente nella società attraverso la ricerca del bene comune non è nient'altro che questo è quella cosa che dovrebbe far muovere le bandiere valori tradizioni ideali difesa di interessi legittimi che cos'altro questo e poi la forma dell'amministrazione dello Stato naturalmente la capacità di legiferare la capacità di governare la capacità di dare un sentimento repubblicano è un valore alle istituzioni di recuperare il concetto di patria è difficilissimo tutto questo in crisi tutto questo usurato tutto questo è arrugginito nel nostro paese ma non è con la cultura del sospetto è con la cultura del rendiconto io vorrei chiedere molto di più del sospetto non è che mi dà fastidio lo streaming vorrei qualcosa di più vorrei obbligare il rendiconto continuo vorrei che i cittadini fossero cittadini consapevoli consapevoli perché informati e quindi fossero in condizione di esercitare il controllo passo passo e poi quando vanno a votare fossero talmente consapevoli da premiare da punire con il voto proprio perché hanno seguito il processo di questi anni vorrei che i partiti si aprissero che se qualcuno avesse del tempo e la disponibilità e la voglia di dedicare un po' di tempo a questo paese trovasse l'indirizzo che non trova trovasse il campanello sulla porta che non c'è e che se suonasse gli aprissero la porta e gli dessero una possibilità di accesso vorrei che i partiti fossero capaci di ritenersi forti perché scalabili liberi perché contendibili capaci di prendere delle energie che ci sono nella società la politica sta seduta su un giacimento di disponibilità democratica repubblicana indifferenziata destra-sinistra non riesce a trovare la spina per connettersi a questo giacimento e ogni volta che dà la possibilità persino con le primarie io guardavo l'altro giorno le primarie per il sindaco di Roma dopo tutte le batoste che la gente del PD ha preso queste persone in parte di mezza età in gran parte di mezza età che si affollavano i banchetti di una domenica piena di sole mentre la gente cominciava ad andare a mangiare al mare a Ostia a Fiumicino a Fregene e sembrava gente che chiedeva dove è il prossimo muro contro cui andremo a sbattere che non sappiamo trovarlo da soli e però dava comunque una disponibilità ma questo vale per la sinistra ma vale in qualche modo anche per la destra se la destra fosse capace di dotarsi di questi strumenti c'è una disponibilità della gente dei cittadini a partecipare che andrebbe in qualche modo raccolta e che la risposta alla presunta oggettività delle dinamiche che dicevamo prima e che il tentativo di tenere aperta questa speranza di futuro che dicevamo prima ma la risposta non è nel sospetto la risposta non è nel risponditore automatico non è un meccanismo perfetto dove chiunque risponda negli incontri tra i partiti o negli incontri istituzionali è uguale l'aveva già detto Lenin che basta una cuoca per guidare lo Stato ma non è vero soltanto dei sistemi totalitari che credono di essere perfetti nel meccanismo meccanico non culturale umano credono che la cuoca possa guidare il sistema non è così non è così perché richiediamo professionalità in tutto nel calzolaio che ci risuola le scarpe si risuolano ancora le scarpe non lo so ma comunque ci capiamo che cosa vuol dire perché richiediamo professionalità nell'idraulico che viene quando il tubo perde nel medico accidenti nel medico accidenti e perché non la richiediamo nella politica perché la naività deve essere testimoniata come elemento di novità perché l'ignoranza qualche volta viene esibita come elemento di alterità di differenza eh ma sono ignorante eh oh non so dov'è il Senato della Repubblica in qualche modo lo troverò alla fine di Google ma il problema non è se non sai dov'è il problema è se sai cos'è se sai cos'è allora è chiaro che abbiamo bisogno che la politica si rimetta incareggiata anche a spintoni non è questo il punto anche a urti magari con qualche concetto un pochino più elaborato del Waffa perché l'idea che l'indignazione la protesta il limite della nostra sopportazione e nello stesso tempo la nostra voglia di partecipazione di cambiamento si esprima nel Waffa mi sembra riduttivo c'è qualcosa di più c'è qualcosa di possibile c'è qualcosa di più alto possibile e poi lo streaming può essere superato dalla capacità di pretendere che chi fa politica dica negli incontri privati quello che dice in pubblico che la parola dei politici sia sì sì no no il resto viene dal demonio i problemi che confrontano il lavoro i lavoratori le classi medie gran parte della nostra società derivano dal fatto che il lavoro in sé nell'agenda politica nell'agenda economica è sceso molto è sceso molto in basso i diritti le retribuzioni la distribuzione del reddito che ha visto le classi lavoratrici le classi medie perdere 10 punti di PIL 10 punti sul PIL quanto a volume totale delle retribuzioni che è uno dei fattori centrali della disuguaglianza insomma dobbiamo constatare un insieme di protratta indifferenza sottovalutazione in parte intenzionale in parte no di moltissimi problemi connessi al lavoro per intanto il diritto al lavoro ma anche il diritto alla retribuzione equa ai diritti sul lavoro e così via come mai che cosa è successo quando io dico queste cose in un in qualche convegno conferenza dove ci sono colleghi esperti economisti politici eccetera eccetera e e dico loro ad esempio qualcosa di simile a quello che ho cercato di dire prima a tutti a tutti voi e beh accade sempre che alcuni dei presenti scuotano il capo e dicano caro Gallino il fatto è che il mondo è cambiato in questa semplice espressione c'è una c'è un gravissimo errore di interpretazione il mondo non è cambiato il mondo è stato fatto cambiare in modo da ottenere precisamente quel risultato e cioè di far scendere di far scendere il più in basso possibile i problemi del lavoro nella legenda politica e economica due cose circa il modo in cui il mondo è stato fatto è stato fatto cambiare una a che fare con la globalizzazione ma parto da una da una battuta di un di un imprenditore americano un grande imprenditore del primo decennio del novecento che si occupava credo di centrali elettriche al quale un amico un socio diceva qui con gli operai è un problema perché ogni tanto fanno sciopero chiedono aumenti fanno delle storie se gli dico di lavorare un po' più fretta tu che cosa ne pensi e questo rispose ma il modo migliore per avere lavoratori disciplinati nella fabbrica è avere una lunga fila di disoccupati al cancello che aspettano di avere un lavoro questo è stato realizzato a livello mondiale la globalizzazione è stata soprattutto un insieme di politica del lavoro che consisteva nell'andare a produrre là dove le retribuzioni i diritti la tutela ambientale le condizioni di lavoro gli orari eccetera erano praticamente al di fuori di qualsiasi al di fuori di qualsiasi regola in gran parte la cina l'india eccetera sono una creatura dell'europa e degli stati e degli stati uniti che sono andati a produrre là non soltanto perché così conquistavano come è giusto e come ci si aspetta che un'impresa capitalistica faccia conquistare i mercati i mercati locali no si è andati là per produrre molte cose che poi ritornano nei nostri paesi sotto forma di importazione fittizia come ricordava Mauro Preima più dell'80 90% ad esempio dei microprocessori prodotti in Thailandia ma poi li compriamo e vengono come se fossero importati dalla Thailandia ma sono prodotti americani che vengono là fabbricati perché hanno ormai i lavoratori locali i tecnici dominano le rispettive le rispettive tecnologie le cose sono un po' cambiate perché gli stipendi in Cina sono saliti eccetera ma insomma vogliamo tenere presente da dove si è partiti e quali sono ancora le distanze ci sono nel libro che Mauro ha citato ormai un po' troppo spesso ma alcuni dati di un un senatore americano che è andato in giro nel Vietnam nel Bangladesh e altrove e ha fatto delle scoperte e cioè che nel Vietnam diciamo due anni fa tre anni fa quando ha fatto questo viaggio la paga media era di 38 centesimi di dollaro però nel frattempo pochi giorni dopo è andato in Bangladesh e ha scoperto che c'era stata una legge che aumentava il salario minimo da cito a memoria da 27 centesimi di dollaro a 38 centesimi di dollaro sono questi che sono che compongono la lunga fila di lavoratori disposti a tutto che premono sui diritti dei lavoratori di tutto l'Occidente di tutta l'Europa e anche degli Stati degli Stati Uniti gli Stati Uniti hanno pagato prezzi altissimi perché come ricordava Mauro prima interi settori industriali sono scomparsi era un grande produttore di elettrodomestici l'America non produce più nulla i giocattoli non parliamo i pc non c'è nessun pc che si è fatto in America i pc sono fatti tutti tra la Cina Taiwan l'India e altro quindi il mondo è stato fatto cambiare in modo da avere una lunga fine ai cancelli fatta da un miliardo e mezzo di persone disposte a lavorare per 50 centesimi di dollaro o magari un dollaro l'ora quando l'azienda è più progredita più produttiva e anche non rappresentati sul piano del diritto da nessuna formazione che si possa definire politica sindacale o altro il secondo aspetto del mondo che è stato fatto cambiare ha a che fare con la rottura di tre tipi di unità che hanno fatto la storia del movimento operaio la storia dell'economia in gran parte negli ultimi due secoli che hanno fatto la storia del movimento sindacale che cosa è andato in pezzi quale unità sono state intenzionalmente frantumate la prima è l'unità di tetto un tempo le imprese producevano quelle che fossero producevano quasi tutto al proprio interno la produzione era quasi totalmente integrata un'automobile veniva prodotta al 100% un uomo intorno al 70-80% all'interno di uno stabilimento si è attuata una una forma di delocalizzazione di distribuzione di esternalizzazione che ha fatto sì che all'interno di un'azienda industriale o anche azienda di servizi eccetera si cerchi di produrre il meno possibile l'ideale è non produrre niente far produrre da qualcun altro lungo una catena quelle che si chiamano una catena di produzione di creazione del valore sparse per il sparse per il mondo la seconda unità che è andata quindi l'unità di i tetti sono diventati erano uno o due sono diventati dieci venti o cinquanta naturalmente molto più piccoli fanno le stesse cose alla fine il prodotto viene fuori unitario funziona ma è stato prodotto in decine non solo sotto decine di tetti diversi ma quei tetti sono anche posti in molti paesi differenti una seconda unità che è andata in pezzi in fantumi è l'unità di padrone una volta si sapeva chi era il padrone delle ferriere nei romanzi di Dickens ad esempio per non parlare dei rapporti di Marx di Engels sulla condizione operaia in Inghilterra intorno a metà dell'ottocento beh lì c'era il padrone il proprietario il capitalista eccetera e questo è durato per molto tempo ancora fin verso gli anni trenta del novecento e poi in modo sempre più impetuoso e soprattutto dopo il 1980 la proprietà si è totalmente frantumata con l'intervento anche di nuovi tipi di proprietari come gli investitori istituzionali che sono i fondi pensione alimentati dai risparmi e dai lavoratori sono i fondi di investimento i fondi i fondi speculativi le compagnie di assicurazione eccetera che acquistano pezzi di un'azienda sia essa quotata in borsa o no e questo è molto difficile perché le lotte operaie le lotte del movimento operaio le lotte politiche le rivendicazioni le leggi si fanno pensando a un padrone ma chi è il padrone chi è il padrone dell'alcoa chi è il padrone di fabbriche che stanno a settimo ma che però fanno capo a una a una controllante finlandese che però è in realtà dominata da una brasiliana in cui sono molto presenti gli investitori istituzionali con chi uno se la deve prendere è diventato veramente molto difficile perché il padrone non si sa più bene chi sia e molti sono enti difficilmente individuali con i quali comunque è molto difficile imbastire una una rivendicazione come il caso ripeto degli investitori istituzionali infine la terza unità che è andata in pezzo è l'unità di contratto io ho lavorato da da giovane in un'azienda in cui c'erano già gli informatici in cui c'erano gli addetti alle mense in cui c'erano le persone che che curavano le piante che stavano negli uffici c'erano gli addetti ai trasporti che portavano con gli autobus gli operai su e giù per le su e giù per le valli e così via questi avevano tutti il contratto di un'azienda meccanica che era un'azienda meccanica oggi tutto questo è finito ed è finito non soltanto perché tutte le specializzazioni sono state espulse dalle fabbriche dagli uffici e l'informatico non sta più lì ma sta in un'azienda autonoma e così via quindi in quella stessa fabbrica che non esiste più ma se esistesse ancora i contratti sarebbero uno per gli addetti alle linee di montaggio uno per la manutenzione degli alberi o dei parchi uno per gli autisti e così via non soltanto ma nello stesso ufficio nella stessa fabbrica ci può essere il dipendente che ha un contratto a tempo indeterminato il dipendente che ha un contratto a tempo determinato il dipendente che ha un un contratto parziale a tempo parziale che non gli va bene ma però o quello o niente qualche partita qualche partita IVA un certo numero di collaboratori a progetto più consulenti professionisti e altri molti dei quali sono dipendenti da aziende esterne perché dopo l'esternalizzazione si è avuta l'internalizzazione per cui in molti stabilimenti a cominciare da quelli Fiat non lontano vi sono lavorazioni importanti che sono fatte da aziende che sono in realtà hanno un contratto indipendente che non è quello della fabbrica che li utilizza tutto questo ha reso molto difficile l'azione del sindacato ha reso molto difficile la vita di operare impiegati tecnici e quant'altro e ha sostanzialmente impoverito eroso i diritti del lavoro le possibilità di rivendicarli bisogna smetterla di dire che il mondo è cambiato ma dire che è stato fatto cambiare in un modo e a noi piacerebbe molto adoperarci per farlo cambiare in un altro senso grazie abbiamo finito l'ultimo l'ultimo intervento il professor Gallino ha spiegato secondo me come se è vero che la disuguaglianza è diventata la cifra dell'epoca una cifra che può essere esplosiva la mancanza di queste condizioni questi tre cambiamenti che ha enumerato che avvengono attraverso il lavoro rende impossibile avere quell'orizzonte che cercava di contrastare la disuguaglianza e di ridurla non è tanto importante che ci riuscisse in determinate fasi storiche si è riusciti in altre fasi non si è riusciti fa parte della dinamica del confronto sociale dello scorrere di una civiltà però l'importante era che ci fosse questo orizzonte culturale che tendeva a questo perché questo è l'alimento della politica è la trasformazione di un bisogno in politica in qualche modo ed è quello che manca allora Gallino dice che ho fatto troppe citazioni faccio una del suo libro che è una frase di un ex presidente della banca mondiale James Wolfson che dice quando metà del mondo all'ora di pranzo guarda in tv l'altra metà che muore di fame una civiltà è giunta alla fine buon pranzo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti